Il quartiere San Domenico è ancora scosso dopo il duello rusticano avvenuto venerdì sera, dove ha perso la vita il 51-annio operaio nisseno Marcello Tortorici. Un quartiere ribaltato al centro della cronaca, ancora molto ferito e poco sereno, come abbiamo sentito dalla voce di chi lo vive quotidianamente. Gli eventi di venerdì hanno profondamente turbato tutta la comunità, tutte le persone che abitano nel quartiere San Domenico, nel quartiere Angeli. E tuttavia ho avuto modo già di confrontarmi con tante persone e ho anche avuto modo di sentire il desiderio di agire, di vivere bene, perché quando avvengono questi episodi così drammatici, così difficili, si può cadere nello scoraggiamento, si può cadere nella disperazione. Ma io ho sentito e ho visto e ho sperimentato che anche in questo territorio, e anche in questa parrocchia ci sono dei semi di speranza, ci sono dei semi di vita buona, ci sono delle persone che desiderano affrontare in maniera diversa le difficoltà, gli ostacoli, i problemi. Sono preoccupati per quello che è successo, perché si sentono, come sempre, come quartiere, si sentono abbandonati, non c'è nessun controllo, manco i video per poter controllare la zona, cosa che abbiamo notato per quanto riguarda questo fatto in Grecioso. Invitiamo l'opinione pubblica, l'amministrazione comunale e la polizia, che tempo fa il vecchio questore aveva mandato la polizia di quartiere, dove presidiava il quartiere, effettivamente le cose si erano molto, ma molto calmate, era sopravvenuta una certa sicurezza da parte del cittadino.